Siamo arrivati a questa proiezione con cui si inaugura il concorso dell'edizione 2016 di Filmmaker. Abbiamo con noi veramente il piacere, e non è una frase, ma l'immigianza di avere l'arancista di distruzione della stessa cultura, che è stato per noi, per tutto il convivato di selezione, è un vero volvo di fulmine, quando l'abbiamo visto, io l'ho visto per la prima volta alla destinale, al forum, ed è un film veramente sorprendente per tanti motivi, e non solo perché racconta una storia molto complessa, anche se è una storia d'amore, ma forse tutte le storie di amore sono molto complesse, e tra Inga Torvaldmann, che è una grande scrittrice, tra l'altro molto legata all'Italia, perché ha visto tanto tempo della sua vita in Italia come si è arrivata a questo testo, come si è arrivata a questo testo, come hai trovato questo testo? Mi piace il lavoro di questi autori, ma solo un paio di anni dopo che ho luci il libro, ho deciso di fare un film, perché, in qualche modo, volevo sapere come questi molto emozionali, volevo risonare con i bambini di oggi. Io ero sicuro che, anche se le persone scrivono in una forma diversa, oggi, non scrivono lunghe lettere, ma scrivono texte, o messaggi, o e-mai, sono sicuro che ci sono ancora che scrivono poetiche e che hanno questi sensi, e che non si sono vecchi. Quindi ho cercato a due ragazze, due ragazze, due ragazze, per leggere queste lettere, e volevo filmare come reagire a queste lettere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.